In che modo effettivamente una piattaforma di integrated business plan può supportare e migliorare il servizio dell'office of finance? Borde in questo caso come piattaforma di pianificazione integrata permette soprattutto di dare una visibilità a 360 gradi alla finance dell'andamento dell'azienda. L'obiettivo principale è quello di ottimizzare i processi decisionali e in questo modo ottimizzare e migliorare anche la qualità delle decisioni che il finance può prendere e deve prendere visto il suo ruolo che è sempre più ampio all'interno dell'azienda. In questo caso avendo una tecnologia che è uniforme, unifica e gestisce tutte le informazioni provenienti da tutti gli ambiti all'interno dell'azienda, come dicevamo garantisce una uniformità e una copertura funzionale all'interno dell'azienda. Il CFO in questo caso è in grado di monitorare l'andamento dell'azienda, identificare i vari KPI che la soluzione mostra e in questo caso identificare anche le cause di eventuali problematiche e ottimizzare anche i tempi di risposta e di ottimizzazione.